Un'altra volta l'esercito a fianco della popolazione aquilana, come è successo dopo il sisma e come succederà anche in futuro? Sì, l'esercito qui con il comando militare, l'esercito Abruzzo e Molise, con il supporto del personale militare e civile, con le loro famiglie e noi confermiamo con questo piccolo gesto il supporto al territorio e soprattutto il supporto a quelle persone, quelle donne, quei bambini che sono meno fortunati che gli altri. Assessore, questa mattina abbiamo visto come si è svolta questa iniziativa importante all'interno delle suore qui a San Gregorio. Possiamo dire un'iniziativa in rosa fatta dalle donne per le donne? Assolutamente sì, questa è stata un'iniziativa solidale, di solidarietà, tutta al femminile, ancora prima che istituzionale, ce lo siamo detto quando abbiamo avuto modo di condividere questo momento con la madre generale di questa residenza che si trova qui a San Gregorio, scelta non a caso ma perché in rappresentanza del territorio, una residenza che si sviluppa su più ambiti che sia quello della comunità educativa, della casa famiglia e della casa madre bambino, si chiama così. Quindi loro offrono davvero un lavoro eccezionale sul territorio di accoglienza e di educazione sia dei minori che di mamme in difficoltà che vivono situazioni di fragilità. Dicevamo una iniziativa di solidarietà al femminile perché la leva è stata proprio quello, il desiderio di fare qualcosa per le donne del territorio, in particolar modo per le donne e per i minori meno fortunati. Le famiglie del comando militare dell'esercito Abruzzo Molise che sono qui all'Aquila, a fianco a me ho la signora Ibi Debora che insieme alle donne delle famiglie di questo comando hanno pensato di raccogliere in maniera spontanea dei fondi che potevano essere messi a disposizione delle attività di una struttura. Abbiamo individuato questa struttura soltanto successivamente quando loro hanno pensato per il tramite del colonnello Marco Giovinelli di condividerlo con l'amministrazione. Il sindaco Biondi si è assolutamente sentito parte dell'iniziativa, oggi non è riuscito ad essere qui con noi, ma ha mandato me come assessora alle varie opportunità perché sembrava calarsi perfettamente nel ruolo e nel mandato che ci siamo dati. La madre superiore questa mattina, la madre generale, ci ha fatto fare un giro nella struttura. Devo dire, anche la signora Debora avrà modo di verificare quello che sto dicendo, sia le camere ma sia le attività che svolgono all'interno di questa struttura sono a misura di bambino e di mamma. Certo, probabilmente a livello istituzionale, a livello politico, se anche dal territorio arrivano queste iniziative spontanee di raccolta fondi, le istituzioni e la politica dovrebbero farsi promotrici di una pianificazione, di una programmazione che consenta di mettere a sistema non soltanto l'aiuto, ma io direi proprio tutto ciò che serve per i percorsi di integrazione fra le necessità del territorio, con quelli dei servizi sanitari e sociali. Noi abbiamo dei piani di zona, i piani sociali, così come abbiamo i piani sanitari regionali, probabilmente questo è arrivato il momento e penso che il piano nazionale ripresa e resilienza ce ne stia dando la possibilità di mettere insieme le risorse del territorio. E quando parliamo di risorse non parliamo soltanto di soldi, perché quelli ci sono, ma le competenze, la visione, la progettualità, la capacità di fare sistema, le sinergie. In questo momento noi l'abbiamo trovato con delle donne, quindi siamo donne, l'abbiamo trovato fra cittadini normali e l'amministrazione si è fatta veicolo, se vogliamo, ha ritenuto di volere e di dover supportare nel migliore dei modi questa iniziativa, che è assolutamente incomiabile. L'intento è di continuare a sollecitare comunque il territorio affinché arrivino e continuino iniziative di questo tipo, perché di soldi ce ne è bisogno tanti, i bambini che sono ospitati in questa struttura, al di là delle attività educative che svolgono come asilo, ma nell'accoglienza di minori fragili, piuttosto che di donne in difficoltà, è un'attività che richiede impegno, richiede competenze e probabilmente qualche risorso in più, anche di tipo professionale, oltre a quello che loro fanno, che è assolutamente incomiabile. Grazie.